bevi lo sardo scusate non sbaglio sempre sto nome perché sapete questo è materia bassa alla fine è riuscito a montare troppo tanta che vita ecco il tra adesso nota giovanna zeni di tutti chi ha l'aggeggio per me con verano la volta della civetta o cripta e gugliani quindi c'è un giorno fa c'è un giorno su e angiaco che a riserisce si passano murtas e per il liocorno a seguire il gruppo bevido sardo con chiavas e quindi pantera enrico brusielli viso d'angelo val di montone di rincorsa jonathan bartolettico un caros che lo porterà vicino al velocchino perché lui di solito la porta la fortezza la fa la fa da lì e controllerà il nicchio certo di non farlo partire come è obbligo che sia vista la rivalità e altro liocorno adesso che va a impedire l'ingresso della rincorsa dovrebbe essere il liocorno appunto al settimo posto ottavo o settimo posto sì eccolo invece che al nono sono tutti schierati e poi via il blu ancora la pantera di fuori arrivata mattina a pantera a blu lufa i tre hanno preso vantaggio sugli altri sta provando Bischelli visto d'angelo eccolo che ora rallenta e lascia provare adesso conti nostro gli ha lasciato fare uno scorrere dopo la curva del casato come avete visto quindi affronta il secondo san martino e poi lo riprende in mano dietro ancora pantera a blu con gli altri stanno andando praticamente a passo eccolo va anche finisce il secondo giro la lufa con Andrea Coghe va a doppiare il Val di Montone prima della lufa di San Martino eccolo va che lo fa riscorrere ancora un po' ora si appresta a fare l'ultimo casato eccolo che finisce e finisce la prova la lufa sono tutti già in pista e e lo stanno portando verso il Barbaresco e i guardiafantini e sono quelli che vanno a prendere tutti i pantini eccolo va l'uscita della lufa si stacca e lo stringi bocca vedete vedete ancora la lufa scusate vi diamo la prova vedete parte con la ciraffa anche la ciraffa svelta questa ardellina eh va via va via bene eccolo va battoletti non fa tante storie e quindi vedete questa è una bella uscita tutti insieme stanno uscendo eccoli onda giraffa oha poi prende bene il blu la pantera di fuori che sapete che il suo d'angelo è un cavallo che non è velocissimo dà delle garazie ma non è velocissimo poi in fondo ce lo trovi sempre mentre state vedendo le quadrature di là della curva battoletti sta andando per il metro di motone a passo non lo sta provando prendete ecco ora la burrata della lupa poi casato poi è costretto a venire fuori perché trova la pantera e rallenta lungo lo steccato questi sono gli altri questo è il nic ancora la lupa che sta facendo un galoppino leggero e va a affrontare vedete il San Martino dopo aver doppiato il Valdimontone sta facendo la lassia cacciarella eccolo casato eccola che finisce la prova guarda torneranno le immagini sulle contrade grazie